Bilancio dell'amministrazione, anemico del dopo pandemia. La rendicontazione di fine anno rappresenta uno strumento di trasparenza messo a disposizione dall'amministrazione locale che racconta in parte il mandato del sindaco e tutte le attività e gli obiettivi raggiunti in questo periodo dall'amministrazione comunale. Introdotto dall'amministratore della pubblica amministrazione con una direttiva del 17 febbraio 2016, il bilancio di fine mandato è un rendiconto che non si limita ai soli aspetti finanziari e contabili ma che illustra ai cittadini e agli altri stakeholder i risultati e l'impiego di risorse negli ultimi cinque anni. Attraverso questo documento si vogliono fornire gli strumenti necessari per capire in modo chiaro e verificabile quali sono stati gli obiettivi raggiunti nel contesto siracusano e attraverso gli anni della pandemia. Ieri mattina il sindaco pro tempore Francesco Italia nella sede del Premierio per darsi un'aria estiva frivola ha fatto il bilancio dell'attività del 2022 e individuate quelle che saranno le priorità dell'amministrazione in questo scorso finale di sindacatura. A febbraio presentammo alla stampa un piano di interventi di manutenzione straordinaria statale oggi interamente completato, attività di sostituzione di canali di scuola in tutta la città investimento di circa 10 milioni di euro, finanziamenti ottenuti per 4 nuovi asili e 4 nuove scuole materne avviato il relamping integrale dei 15.000 punti luce in città in ottica di efficienza e sicurezza posto le basi per portare in città altri nuovi sei corsi di laurea grazie a un accordo con l'Università di Messina oltre 2 milioni di euro destinati a Ortigia, ai poli dell'infanzia, a Cassibile e contrada a Carrozzieri dal vecchio lavatoio La Saia di Belvedere interamente restituito alla fruizione dopo un attento restauro al presidio di legalità in via Algeri in collaborazione con la prefettura e il comando provinciale dei Carabinieri dagli indispensabili lavori in corso nelle quattro palazzine di via Barresi alla via Pigrale dove Casa Monteforte tornerà a risplendere grazie al finanziamento di un progetto esecutivo o a via Benzizia in cui tra poche settimane inaugureremo una scuola di saltoria in un immobile confiscato alla mafia i poli dell'infanzia di Cassibile e di contrada a Carrozzieri per 6.660.000 euro la corposa manutenzione delle case popolari di Largo Luciano Russo e Via Sturzo per circa 10 milioni di euro l'archeoparco tra Viale Scala Greca e Santa Paragia per circa 7 milioni di euro